Un amatore, la domanda che deve porsi non è quanto è importante la mente o quali sono gli elementi mentali da sviluppare o da curare in ambito podistico. Ciao a tutti gli amici del canale, confrontandomi con Massimilani abbiamo pensato di inaugurare una nuova rubrica, ovvero dare la possibilità ai telespettatori o comunque le persone che seguono il canale di fare delle domande di natura psicologica a cui io piano piano ogni settimana andrò a rispondere. Quindi se avete qualche curiosità o qualche dubbio inerente al rapporto tra mente e corsa basta che lo scrivete qua sotto, ogni settimana andremo a scegliere una delle domande che farete e risponderò a questa domanda. Per questa puntata ho deciso di rispondere a forse la domanda più importante che è stata posta da un amico che conoscete in molti, Cosimo Bertolotto, noto anche come Cosimo Rani, ovvero quanto conta la mente. Penso che tutti quanti si siano domandati quanto è importante la mente all'interno dello sport più in generale e quanto è importante all'interno della corsa. Per rispondere a questa domanda ho scelto di appoggiarmi a un signore, uno psicologo, uno degli psicologi più noti della storia che si chiama Abraham Maslow. Abraham Maslow, ho qui il suo libro principale, che è Motivazione e Personalità, è stato il capostipite della cosiddetta psicologia umanistica. È un signore, Maslow, che è vissuto a metà del secolo passato lavorando prevalentemente in California, sulla costa di Bixurra. Il contenuto più conosciuto di Abraham Maslow è noto come la piramide di Maslow, probabilmente all'interno di alcuni corsi aziendali o se avete frequentato dei corsi di formazione di matrice psicologica avrete già sentito parlare della piramide di Maslow. Se ne parla soprattutto in ambito aziendale. Ho disegnato la piramide di Maslow, la vedete qui. Come potete notare è una piramide strutturata su cinque livelli. Cosa suppone la piramide di Maslow? Che per arrivare ai livelli più alti bisogna prima aver soddisfatto i livelli sottostanti. All'interno di ogni livello ci sono dei bisogni. Quindi per soddisfare i bisogni più elevati abbiamo la necessità di soddisfare i bisogni sottostanti. Vi parlo un attimo della piramide di Maslow per rendere chiaro cosa dirò poi in ambito budistico. La piramide di Maslow si struttura come dicevo su cinque livelli. A livello più basso ci sono i bisogni fisiologici. Quindi una persona innanzitutto ha bisogno di soddisfare i bisogni fisiologici. Che sono quelli di bere, mangiare, andare in bagno, dormire. Quindi bisogni legati alla soddisfazione fisica legata al nostro corpo. Una volta che riusciamo a soddisfare questi bisogni possiamo e passiamo ad aver bisogno di soddisfare dei bisogni legati alla nostra sicurezza personale. Quindi sentirci tutelati e tutelata la nostra incolumità. Quindi sapere che nessuno entra in casa nostra per rubare e avere la certezza che anche se camminiamo nelle vie della nostra città nessuno ci importunerà. Quindi nel momento in cui io ho soddisfatto i bisogni fisiologici, quindi so di poter sopravvivere, sento il bisogno di essere tutelato a livello di sicurezza. Nel momento in cui io mi sento tutelato anche a livello di sicurezza, sorgono dei nuovi bisogni, che sono quelli di appartenenza. Ovvero avere la sensazione di far parte di un gruppo e di essere conosciuto come membro di un gruppo. Cosa significa? Che io inizio a sentire questi bisogni se e solo se ho già soddisfatti i bisogni sottostanti. Se soddisfo anche i bisogni di appartenenza, passo ai bisogni di stima. I bisogni di stima sono quelli legati a sentirci stimati dalle persone che ci circondano e che sono importanti per noi. Quindi una persona che sente di aver particolarmente bisogno di essere riconosciuto e stimato dagli altri, sicuramente o comunque con buona probabilità, ha già soddisfatto i bisogni sottostanti. Infine al vertice della piramide, l'ho scritto qua di fianco, ci sono i bisogni di autorealizzazione personale. La società in cui viviamo, dove c'è un forte impulso di autorealizzazione personale, seppure viviamo un momento particolare che ha scompigliato un po' le carte, si situa principalmente qui. Cosa significa? Che il mondo occidentale fino a poco tempo fa aveva soddisfatto per la maggior parte degli individui questi bisogni fondamentali. Quindi eravamo in una società che si poteva permettere di ricercare la soddisfazione dei bisogni di autorealizzazione personale. Se noi ci fossimo spostati in alcuni paesi centrafricani, dove non c'è cibo per mangiare e sopravvivere, l'autorealizzazione, il bisogno di autorealizzazione, la maggior parte delle persone non se lo pone nemmeno. Perché sta cercando di soddisfare dei bisogni fisiologici. Quindi possiamo concepire questa piramide di Maslow come una piramide a livelli progressivi. Si sale a livelli più elevati solo se abbiamo soddisfatto i bisogni ai livelli più basilari. Perché vi ho parlato di questa piramide? Perché secondo me può essere traslata e pensata anche a livello sportivo. Cambio foglio, scusate se mi sono oscurato facendo passare questo foglio davanti. Può essere pensata anche a livello sportivo e in particolare a livello podistico. Ho disegnato la stessa piramide, ho inserito dei bisogni differenti. Alla base io ho messo il bisogno di allenamento. Al secondo livello il bisogno di riposo, di curare il riposo. Al terzo livello il bisogno di alimentazione. Al quarto livello il bisogno di curare l'integrazione e la cura degli accessori che andiamo a utilizzare o che acquistiamo. E al vertice la mente. Vi confido che ero indeciso se mettere la mente al vertice oppure al quarto livello. Mentre sui primi tre livelli della struttura della piramide ero abbastanza certo e sono abbastanza certo che siano questi. Perché penso sia particolarmente informativa per dirci quanto è importante la mente e qual è il ruolo giocato dalla mente in corsa. Perché cosa ci dice? Ci dice che se non siamo abbastanza allenati, se non abbiamo curato bene l'allenamento, anche se abbiamo una mente fortissima, questa non servirà a nulla. La mente entrerà in gioco nel momento in cui abbiamo fatto un buon piano di allenamento e l'abbiamo seguito. Nel momento in cui ci siamo riposati e abbiamo lasciato il nostro corpo rigenerarsi e assorbire bene il training, abbiamo curato l'alimentazione, abbiamo la strumentazione adatta. In quel momento, se tutti questi livelli sono soddisfatti, la mente fa la differenza. Fermiamoci un attimo a riflettere. Se prendiamo l'atleta elite o il professionista, questi quattro livelli sicuramente li ha fatti veramente molto bene. Avrà un allenatore e la maggior parte, tutti i giorni, a volte anche con dei bigiorni o ieri, si allenerà. Quindi, il livello di allenamento, chi più chi meno, è curato con estrema dedizione. Anche il riposo è curato con estrema dedizione. Anche l'alimentazione è curata con estrema dedizione. Anche gli integratori e gli accessori sono dei migliori livelli, che si metta un paio di scarpe adidas, un paio di scarpe nike. Comunque, un runner elite si può permettere delle scarpe di massimo livello e generalmente tutti hanno scarpe di massimo livello. In quel caso, la differenza la fa la mente, perché i quattro livelli sono stati soddisfatti e l'elemento rilevante che fa la differenza, quando parliamo di atleti elite professionisti, è data dalla mente. Se invece prendiamo un runner amatore, facciamo il tapasione, In quel caso, parlare dell'importanza della mente è, secondo me, improprio, perché il ruolo giocato dall'aspetto psicologico è alquanto aleatorio. Un amatore, la domanda che deve porsi non è quanto è importante la mente o quali sono gli elementi mentali da sviluppare o da curare in ambito podistico. Quello che deve fare è domandarsi se si è allenato bene, se si è allenato bene inizia a curare il riposo, se sta riposando bene cura anche l'alimentazione, oppure passa a livello superiore e va a comprarsi delle scarpe buone, un GPS buono, degli integratori particolarmente adatti a lui. Però, sempre su questo livello progressivo. Quindi, se dovessi rispondere alla domanda quanto conta la mente in ambito podistico, la risposta è dipende. Come spesso dico, se uno psicologo non inizia le frasi con dipende, probabilmente sta mentendo, oppure non sta mentendo ma vi sta dicendo una castroneria, perché la risposta più onesta che qualsiasi psicologo può dare è dipende. Quanto conta la mente? Dipende. Dipende quanto un runner va forte e quanto ha curato questi quattro livelli sottostanti a quello della mente. Se gli ha curati, la mente è importantissima. È forse il fattore che maggiormente permette di raggiungere o meno un determinato risultato sportivo. Quando le differenze tra un atleta e l'altro si giocano sulla base di 1-2 secondi al chilometro o a parità di velocità nello snodo critico di una manifestazione, la mente è il fattore più importante. Se le differenze di velocità sono decisamente molto più marcate, probabilmente se lavoro su uno dei fattori sottostanti posso avere dei benefici decisamente maggiori. Ecco, questa è la prima risposta che ho deciso di dare. Quindi rispondendo all'amico Cosimo ho risposto a quanto conta la mente all'interno delle manifestazioni polistiche. Se avete altre domande o altre curiosità, come vi dicevo, scrivete qua sotto la vostra domanda e vi prometto che risponderò. Ciao a tutti e buone corse e buon ritorno all'attività. Ciao e alla prossima!